Ben ritrovati, nuovo appuntamento con la lingua italiana, nuova appuntata con parole, parole, parole. La nostra rubrica quotidiana dedicata all'approfondimento ogni giorno diverso di una parola della lingua italiana. Quest'oggi il vocabolo che abbiamo scelto di approfondire insieme a voi è educazione. Educazione il cui significato è sviluppo e trasmissione di facoltà, di principi intellettuali, morali ma anche culturali che può essere indicato ovviamente utilizzato anche in ambito di formazione scolastica, di istruzione ma anche di buone maniere. La sua etimologia ci dice che anche questa è una voce dotta recuperata dal latino educere cioè tirar fuori estrar derivato a sua volta da ducere, guidare ovviamente con l'aggiunta del prefisso e che indica il movimento verso fuori. Tra i sinonimi possiamo citare insegnamento, formazione, istruzione, preparazione ma anche correttezza, creanza, finezza, raffinatezza. Tra i contrari invece possiamo citare tra i più frequenti maleducazione, rozzezza, grossolanità. Ecco sono questi alcuni dei sinonimi e dei contrari che potete trovare quando parlate di educazione che a sua volta potete utilizzare in questo contesto. La frase particolarmente emblematica che abbiamo scelto quest'oggi ovviamente è una citazione di un esponente molto colto che conosciamo proprio in ambito culturale che è Virgilio. Virgilio dice così come l'arbusto è piegato così l'albero si inclina. Con questa frase Virgilio molto più semplicemente vuole sottolineare l'importanza di educare chi ci circonda, di educare i nostri figli, di educare le persone che amiamo. Perché? Perché ovviamente dice Virgilio come l'arbusto è piegato così l'albero si inclina. Spesso comunemente diciamo che la mela non cade mai lontano dall'albero, anche questo è un modo di dire cioè che ovviamente se noi riusciamo a educare i nostri figli chi ci circonda sicuramente loro cresceranno educati esattamente come noi. Al contrario se noi non ci occupiamo di educare, di trasmettere questi valori ai nostri figli o chi ci circonda ovviamente cresceranno su esattamente come li abbiamo ed come li abbiamo educati noi. Ovviamente questo è il concetto che vuole sottolineare Virgilio con questa sua frase. L'importanza di educare chi amiamo, chi ci circonda, chi vogliamo bene, di educare in primis i nostri figli perché poi è quella la futura generazione che ovviamente dovrà vivere in una società che speriamo tutti possa essere sempre migliore e ovviamente dipende anche dai valori, dall'educazione che trasmettiamo a loro. Siamo giunti al termine di questa puntata ovviamente io vi ringrazio, vi ricordo le nostre pagine social Facebook e Instagram di Sicilia24 e di Spazio Notizia. Scriveteci lì come state già facendo i vocaboli della lingua italiana di cui siete più curiosi e ovviamente nel corso delle altre puntate li approfondiremo insieme. Grazie per averci seguito, parole parole parole, torna domani.